Il Grande Sud approda anche in seno al Consiglio Provinciale di Chieti con due consiglieri. Nicola Mincone, che sono io, e Fabrizio Montepara. Io ho un carico di capogruppo, Fabrizio è un consigliere. Nasce Grande Sud, noi siamo usciti dalla formazione del PDL perché ritenevamo il PDL non più rispondente ad alcune esigenze non personali, ma quanto di gestione politica. Noi crediamo che il territorio ha bisogno di maggiore attenzione da parte della politica. Grande Sud oggi ci dà queste garanzie perché siamo noi che riusciamo a stare di più nella realtà e portare avanti le istanze del cittadino. Quindi Grande Sud nasce con questo compito, con questo obiettivo più che compito, con questo obiettivo che vuole stare dalla parte della gente. L'iniziativa di stamattina ed altre che ce ne saranno vanno in quella direzione. Quindi l'augurio che attorno a Grande Sud si possano aggregare altre persone, amministratori, che sono espressione del territorio, che oggi sono gli unici referenti dei cittadini perché tanta politica, tanti deputati onorevoli sono stati nominati e non votati dai cittadini. Crediamo che con Grande Sud si possa ripartire una nuova stagione della politica. La leader Salentina Polibortone si ritiene orgogliosamente terrona e lei? Noi ci chiamano terroni da sempre, è un termine al quale ci siamo abituati, ma se terrone significa entusiasmo, voglia di fare, criticità, lavoro, abnegazione, io sono un terrone di quelli veri e non mi vergogno di nulla. Anzi, approfitto per dire che probabilmente questa settimana o la prossima settimana la Polibortone ritornerà qui a Chieti, in provincia di Chieti, faremo un incontro con la stampa, con gli amministratori perché vogliamo che questo Grande Sud venga capito dalla gente. Si capisca che non è un partito dove ci vanno delle persone che hanno interessi personali. Noi non cerchiamo questo, non l'abbiamo cercato in provincia e poi magari nei prossimi giorni avrete anche delle risposte in tal senso. Non nasce Grande Sud perché vuole un assessorato. Grande Sud nasce per cercare di fare della buona politica. Grazie a tutti.